Che lavoro fai? Trafficante di organi. Criminale, ma non ce l'hai un cuore? Ne arriva uno mercoledì. Io sono il protettore dei gabinetti. Come ti chiami? San Itario. Salve soldato semplice, ti abbiamo fatto venire qui per farti delle domande. Se risponderai bene ti faremo entrare in una unità speciale. Grazie capitano, sono pronto. Supponiamo che tu sia in battaglia e che a un certo punto un proiettile ti stacchi un orecchio. Cosa senti? Non vedo più da un occhio. Cosa? Mi sembra una risposta strana. Vabbè, supponiamo che qualche minuto dopo un altro proiettile ti stacchi anche l'altro orecchio. Cosa senti? A questo punto non vedo proprio. Ma che risposta è? Ti staccano le orecchie e tu non ci vedi più? Eh sì capitano, senza orecchie l'elmetto mi scende sugli occhi. Nipote, quando non ci sarò più vorrei che tu facessi scrivere nella mia tomba quello che ho fatto nella mia vita. Va bene nonno. Come mai sentite sempre freddo d'inverno? Perché siamo mezze maniche. Ragazzi, tenetevi pronti perché interrogerò mercoledì. Uffa, perché sempre a me? Da quando mi hanno tagliata non mi sento più bella. Non è vero, sei perfetta. Drago, ti sconfiggerò. Oh no, che noia. Anche oggi si mangia carne in scatola. Che canzone dei Queen cantano due funghi che hanno appena vinto una gara? We are the champignon. We are the champignon. Scusate, questa era proprio una Freddy ora. Papà, perché lavori tanto? Perché così possiamo avere tante cose. Ma io l'unica cosa che voglio è restare un po' con te. Vanno bene 50 euro? Sì. Grazie. 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 Grazie.